Vogliamo solo giocare. Questo l'unico senso, ci raccontano alcuni genitori della partita di calcio tra i ragazzi che non sono in possesso del Green Pass rafforzato e che si è svolta ieri ad Arezzo, in particolar modo a Stagiano. Sono loro a chiederci di rappresentare il vero scopo che ha mosso l'iniziativa organizzata da Italexit e ospitata dal campetto della parrocchia, che, precisano gli organizzatori, è completamente estranea all'evento. I ragazzi hanno giocato con la maglia di Italexit e la scritta Io sono sano e voglio fare sport. Basta con le discriminazioni tra i ragazzi, ne abbiamo viste fin troppe, ci racconta una mamma, mio figlio, ha diritto come tutti gli altri di praticare sport. E ancora, non mi interessa se l'iniziativa era organizzata da un soggetto politico, mi basta sapere che i ragazzi non vedevano l'ora di giocare, questo hanno fatto in armonia. Di iniziative simili in tutta Italia ce ne sono molte, ci racconta un altro genitore, quello che vogliono rappresentare è che dobbiamo smettere di discriminare i nostri ragazzi e poi la gioia che prevale su tutto, polemiche comprese.